Rovertiglieria, ordinate, eco, 3, eliminare, eco, 3, ricevuto, aprire il fuoco. Enemy forces have captured that zone. The light forces have captured the zone. Avanzare. Ricevuto, avanziamo. Lasagna colpito. Buon! Carro armato! A ore 5! Distanzo! Certo metri! Siamo stati compiti! Request air support! Attention to the designated grid zone! Affirmative! Attention to the designated grid zone! Attention to the designated grid zone! Atondi, sui! Versaggio colpito! Grazie a tutti. Bersaglio col dito. 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 A presto! 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 A presto!